Adesso io sono molto contento arrivo qua, così devi giocare un po' e aiuta la squadra a continuare a fare bene così. Sono molto contento arrivo qua. Esattamente qual è il tuo ruolo? Centrocampista, centrale. L'impressione della squadra? Domenica è lì ad aprile. Sì, è una partita molto difficile perché il campo non è troppo bene per giocare, ma in allenamento è una squadra brava. È un po' così. Grazie.